Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Cresce il consenso della Presidente Patrizia Casagrande. A rivelarlo è l'indagine commissionata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore all'IPR Marketing che vede la Presidente attestarsi al sedicesimo posto della classifica nazionale sulla Governance Poll con il 60% di gradimento pari al 2,2% in più rispetto allo scorso anno e al 4,4% in più rispetto al momento delle elezioni. Continua a destare interesse il progetto di autocostruzione Le Mani per Vivere Insieme finalizzato alla realizzazione di 20 nuovi alloggi a Senigallia. Dopo la visita della delegazione del Comune di Arezzo, questa volta ad interessarsi all'originale intervento di edilizia residenziale sono state le telecamere di Cresce, il programma in onda ogni domenica sulla storia dedicato al fenomeno dell'immigrazione e di Tg Parlamento nell'ambito di un'inchiesta sul ruolo delle province italiane. A me sembra che l'esperienza più importante che riguarda questo progetto di autocostruzione sia riconducibile all'aspetto sociale. È innegabile che per noi è motivo d'orgoglio aver saputo immaginare fin da quando l'abbiamo pensato che una comunità nasce con indirizzi prevalenti fatti da valori e questa comunità è nata integrandosi da subito tra persone italiane e persone non italiane. L'idea di costruire insieme non un alloggio ma una comunità io credo che sia stata la parte che ha conquistato anche il parere di tanta altra parte del nostro paese. Con l'assessore Mariani abbiamo tentato altre vie che hanno dato un grande risultato, penso a quella delle giovani coppie e poi comunque un'edilizia residenziale pubblica che è stata gestita con uno sguardo d'insieme non valorizzando una parte del territorio a discapito dell'altro ma intuendo che era necessario anche attraverso le politiche urbanistiche dotarci di strumenti e quindi invitando i comuni attraverso i loro strumenti a prevedere aree di dirizia economica e popolare. L'innovazione del progetto è dimostrata dal fatto che l'Università di Ancona sta studiando questa sperimentalità inserita in un quartiere coevo che vede tutte le modalità dell'abitare concentrate e questo progetto è stato presentato da ultimo in Spagna perché è un progetto pilota a livello nazionale ed internazionale che sta suscitando moltissimo interesse. Ecco, noi crediamo di aver messo la prima pietra anche sociale per una modifica dell'intendere l'abitare in un momento di grave crisi del Paese. Si chiama ENA ed è il progetto cofinanziato dall'Unione Europea con l'obiettivo di migliorare il rendimento ambientale delle aziende nautiche marchigiane attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolte a imprenditori, dirigenti e tecnici specializzati. La loro presentazione è prevista durante il convegno EcoDesign in programma sabato 21 gennaio alla loggia dei mercanti di Ancona promosso dall'ampio partenariato che comprende tra gli altri le province di Ancona e Pesaro Urbino, la Camera di Commercio di Ancona, il Consorzio Navale Marchigiano e l'Università Carlo Bò di Urbino. Gli appuntamenti previsti dal progetto si svolgeranno ad Ancona e Fano. Tra i temi che verranno affrontati ci sono lo sviluppo sostenibile nelle piccole e medie imprese della nautica tramite l'EcoDesign, l'integrazione degli acquisti verdi, le buone pratiche della produzione sostenibile. Dal 22 gennaio all'11 aprile si rinnova l'appuntamento con la rassegna alle strade del jazz, giunta quest'anno alla tredicesima edizione e nata dalla ormai collaudata collaborazione tra la provincia di Ancona e l'associazione Spazio Musica. Ben 12 gli appuntamenti che confermano l'iniziativa tra gli eventi culturali più importanti e caratteristici del territorio provinciale. Tanti anche quest'anno i nomi di richiamo che si esibiranno per garantire al pubblico profonde emozioni grazie all'indiscutibile qualità artistica degli spettacoli. Gli elementi tipici della programmazione di Ancona Jazz sono riversati in questa manifestazione quindi con particolare attenzione al canto jazz, appunto il concerto di Montemarciano con una cantante che è figlia d'arte e con attenzione soprattutto al mainstream bop interpretato dal primo concerto d'Ufagna, da Sherman Herbie a Serra dei Conti e da Buster Williams e di Buster Williams in particolare si lega anche un altro aspetto tipico della programmazione cioè quella di recuperare grandi personaggi del jazz. Una edizione come al solito di altissima qualità che si snoda nei luoghi più belli della nostra provincia nei comuni e nei borghi più affascinanti e che non manca anche quest'anno di avere delle chicche tra gli ospiti. Purtroppo per i tempi che corrono è una versione leggermente ridotta dalle precedenti ma abbiamo voluto comunque salvarla e abbiamo voluto mantenere il livello qualitativo. Ormai questo è il quarto anno che il sistema museale della provincia di Ancona collabora con le strade del jazz proponendo a seconda dell'orario prima o dopo il concerto la possibilità di cenare in un ristorante convenzionato e in ogni caso prima del concerto di poter effettuare un itinerario storico-culturale nei musei dei comuni nei quali si svolge l'iniziativa. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Buona giornata!